Governo e maggioranza penalizzano fortemente i comuni virtuosi, quelli che negli ultimi anni hanno fatto razionalizzazione sul personale e questa norma che prevede il turnover del 25%, ovvero 4 cessazioni di dipendenti per poterne assumere uno, chi penalizza coloro che hanno razionalizzato in passato e soprattutto i piccoli comuni che avendo magari neanche 10 dipendenti a breve rischieranno di averne poche unità. Questo ovviamente si rifletterà sulla qualità e sulla quantità di servizi erogati nei confronti dei cittadini. Ancora una volta Renzi si fa bello alle spalle dei comuni, in particolare di quelli virtuosi.